Buongiorno mister. Buongiorno, buongiorno. C'è stato un anno con la migliore serie di risultati di un vittorio e un pareggio? Hai cambiato solo la mentalità o sei dell'altro? Beh, credo due cose. Uno, i nuovi sicuramente hanno dato qualcosa perché si è stanco, si è cupi. Giocatori che sicuramente hanno incrementato e soprattutto hanno colmato alcune lacune, soprattutto sulla fascia, noi abbiamo sempre avuto dei problemi sulle fasce laterali. Quindi ci hanno dato una grande mano. Però ecco, i risultati, io l'ho già detto anche alla squadra, i risultati arrivati in queste ultime settimane sono frutto anche di un atteggiamento nella mentalità che sicuramente abbiamo cambiato qualche mese fa. Quindi adesso stiamo raccogliendo, grazie ai giocatori nuovi che ci hanno dato una mano, ma soprattutto anche l'inversione di marcia, di mentalità, di atteggiamento che abbiamo avuto un paio di mesi fa. Questo è il fordoppio. Ecco, per la prima volta, su serio, c'è qualche problema, tra virgolette, non è un problema di abundanza, nel senso che addirittura hai un convocato che va a tornare in tribuna? Sì, credo che sia la prima volta che mi capita questo perché ho sempre dovuto arrangiare, tra virgolette, anche qualche inserimento, con tanti inserimenti anche di giocatori della primavera, per arrivare a 18, 19, a 20 e quindi oggi per la prima volta c'è un problema di abbondanza, sapendo anche che è squalificato per il ser, quindi mi manca più questo giocatore, però credo che poi faccia parte anche del compito allenatore, guardare, valutare e scendere e decidere. Credo che poi sia anche il compito allenatore che prendessi queste responsabilità. Di solito non ti sbottoni per i tanti per squadra, ma hai già in mente tu? Beh, credo di sì, credo di sì, di massima. Ho avuto qualche perplessità, soprattutto anche un'altra settimana, sono avuto causa anche di qualche ciacco, sono avuto qualche attacco influenzale ancora, insomma, soprattutto stanco. Ho perso qualche giorno da allenamento, non sono solamente questo, però adesso si è ripreso, ieri si è allenato con la squadra, quindi sta bene, quindi grandi problemi non ci sono e credo che sono sotto certi aspetti, ecco, non lo so, mi piace pensare fino all'ultimo e ci penserò fino all'ultimo, però continueremo un po' con la scia delle ultime partite, ecco, non ci saranno grandi stavolgimenti. Ah, quindi anche stanco... Beh, questo non l'ho detto, no, questo non l'ho detto, se hai confermato questo, se hai ritrati i goli, credo che poi deciderò, però ecco, diciamo che ho le idee su chi far giocare, che ripeto, le perplessità e le ricopro diritti di questo giocatore, soprattutto. Domanda magari un po' di patica, ma tocca farla, in settimana si sa che Sgrigna non ha digerito benissimo le due panchine, come, beh, hai parlato come giocatore, non voglio sapere cosa vi siete detti, ma essenzialmente esiste un caso Sgrigna o no? Per voi penso di sì, per voi penso di sì che esista un caso Sgrigna e che per certi versi, tra virgolette faccia un po' comodo perché magari crea qualche spazio in più su qualche articolo, su qualche giornale, per me no sinceramente, non esiste. E' logico per dire che parlo poco ai giocatori delle mie scelte, a volte l'emotivo, altre volte no. Però se non ne parlo prima, è logico per dire a tutti i giocatori, credo che sia anche duveroso a volte spiegare se c'è qualcosa che va e cosa non va e quindi ecco il riferimento a Sgrigna e vi ho parlato dopo questo. Questi malrumori, sinceramente, secondo me ci possono anche stare che un giocatore non sia contento, che sia Sgrigna e che sia anche qualcun altro. Questi malrumori ci possono anche stare, vuol dire che sono giocatori che tutto sommato ci tengono, non vorrebbero sempre giocare e un po', ripeto, un po' di disappunto, può essere anche corretto che ci sia. L'importante, ripeto, l'importante è che tutto venga contenuto, certi binari di comportamento, gli atteggiamenti devono essere giusti, non si devono sbagliare anche se ci può essere un valore. Questo ecco, che sia un giocatore importante, l'importante è questo, questo lo pretendo. I giocatori devono capire una cosa, soprattutto in questo momento, che io mi devo preoccupare, non a volte del comportamento, se giocano o non giocano. Mi devo preoccupare solamente se partono dall'inizio e ci devono essere, oppure entrano in corso della partita e ci devono essere. Il mio pensiero è solamente questo, la mia dispersione, a livello nervoso, deve essere quella, non se un giocatore è mungugna o non è contento o è scontento. Io devo pensare solamente di portare al top la squadra prima della partita o quelli che entrano che siano al top, solamente questo. Dopo tutto, ripeto, tutto deve rientrare in certi canoni, in certi binari.